Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Abbiamo visto, o comunque avete visto, se l'avete vista, la mia reaction al trailer, al nuovo trailer di Final Fantasy VII Rebirth presentato ieri ufficialmente allo State of Play con data di uscita 29 febbraio 2024, quindi abbiamo la data ufficiale, abbiamo finalmente la possibilità di poter dire ci sarà Final Fantasy VII Rebirth ho fatto una reaction ieri, che ho pubblicato comunque nuovamente qui una reaction dove, a dire il vero, dico anche poco è quello che dico effettivamente in alcune parti anche sbagliato cosa che giustamente capita durante le reaction a primo impatto perché assimili talmente tante informazioni tutte in una volta che non riesci effettivamente a metabolizzarle e gestirle nella maniera corretta oggi però, avendo avuto tempo un attimino di riorganizzare le idee avere modo anche di poter effettivamente concentrarmi sulle immagini che ho visto ieri oggi vi farò vedere il trailer giapponese sottotitolato in inglese perché in realtà le differenze sono veramente poche tra il trailer per la prima volta mi sembra strano da dire ma non ci sono praticamente grosse differenze tra il trailer giapponese e il trailer inglese almeno da quello che ho potuto leggere io poi non so se ci saranno differenze evidenti che magari mi sono sfuggite nel caso vi invito appunto a scrivermelo sotto nei commenti a differenza del vecchio trailer dove appunto una frase detta in un modo ha completamente sfasato tutto ovvero la frase di Sephiroth dove appunto parlava del fatto di aver ucciso Tifa o del fatto che Cloud credesse che Tifa fosse morta quindi diciamo che in base a come è stata tradotta e riformulata quella frase aveva messo un po' di confusione qui la situazione è diversa quindi devo ammettere che sembra, ripeto da quello che ho potuto vedere in giro dai trailer che non ci siano grosse differenze quindi è una cosa buona è una cosa buona per cui guardiamo il trailer cerchiamo di analizzare bene quello che si vede e infine vi dirò la mia teoria la mia teoria finale probabilmente perché non credo che ci saranno altre cose che mi daranno modo di cambiare le mie idee perché a questo punto credo di esserne estremamente convinto però non si sa mai cominciamo ups vi ho fatto vedere un allegato perché vi farò vedere anche degli allegati ovviamente qui allora cominciamo con ovviamente l'inizio qui sta parlando il Mira quindi la madre adottiva di Eris e la prima scena che vediamo è il disastro che era stato riportato diciamo nel vecchio trailer quindi dove tutti quanti erano praticamente privi di coscienza è tutta praticamente Midgar completamente sfasata completamente distrutta quindi la fine del mondo almeno è questo quello che dicono tutti e come potete vedere per l'appunto qui abbiamo la nostra il Mira che sembrava nascosta e che non si facesse vedere ma in realtà è esattamente lì quindi sta parlando con Zack e sta parlando con Zack con Imbraccio Cloud Cloud noi nel vecchio trailer quello dove appunto c'era stato il disastro della scena non si era visto se ci fate caso non si era visto quindi questa potrebbe essere effettivamente la timeline di Zack dove Cloud non ha partecipato al ride della bombing mission ovvero dell'esplosione non solo dell'inizio quindi dell'esplosione dell'altore ma non ha partecipato praticamente a tutta l'azione avalanche ed è per questo che per l'appunto la squadra dell'avalanche non è riuscita nel suo intento e quindi sono praticamente tutti privi di coscienza almeno questo in teoria dovrebbe essere l'incipit e questo in teoria combacerebbe combacerebbe con quello che abbiamo visto perché Cloud non si vedeva all'inizio ed è qui proprio perché era insieme a Zack quindi chi effettivamente come me ipotizzava che quella potesse essere una timeline alternativa dove si vedono i membri dell'avalanche con Eris tra l'altro particolare e importante questo che tra l'altro qui non si vede proprio perché Zack la prima cosa che fa è tornare a casa di Eris quindi cercare la sua Eris vedere dove si trova la sua Eris ma come potete notare non la trova e trova sua madre che invece gli dice in questo caso che si stanno trovando praticamente di fronte alla fine del mondo e infatti come potete notare qui siamo praticamente in quella zona dove se vi ricordate nel remake si percorreva e si arrivava verso la zona della casa di Eris e poi qui arriva la frase il mondo sarà salvato ma tu ma tu sarai cioè tu sarai compreso nel mondo salvo quindi a chi si riferisce questa frase è una frase molto importante che io reputo appunto possa riferirsi in questo caso sia a Zack che a Eris perché perché si ricollegherà tutto con la mia teoria finale la mia teoria finale viaggia su un un good ending sulla possibilità di un good ending e vi spiegherò anche il perché in questo caso Eris che dice questo cielo non mi piace che è una ripresa del fatto che lei avesse paura di questo still sky come lo chiamava alla fine del remake questo cielo così lei aveva paura di questo cielo qui questo cielo non mi piace è praticamente una riproposizione qui ovviamente ci troviamo a Junon durante la parata per la celebrazione dell'ascesa di Rufus che è diventato per l'appunto presidente quindi abbiamo tutti i festeggiamenti qui invece abbiamo una cosa inedita una cosa inedita che vi lascerò tra l'altro negli allegati cioè ve lo lascerò sotto in descrizione un'intervista che è stata fatta ai producer diciamo del gioco si è parlato del fatto che Cloud originariamente nel gioco originale si intrufolasse così all'interno di una diciamo di uno squadrone e facesse quel minigioco appunto poi delle pose di tutto il resto durante la parata di celebrazione qui invece se notate Cloud non si intrometterà di soppiatto ma diventerà lui il capo della diventerà lui il capo della fanteria e questo verrà visto cioè verrà comunque verrà comunque interpretato dal gioco come un minigame quindi come un minigioco e saremo noi capaci di poter comunque distribuire le truppe come vogliamo avremo modo comunque di poter soddisfare in questo caso Rufus però con il ruolo di capitano quindi saremo noi che comanderemo praticamente tutti quanti gli altri e cercheremo di fare una buona impressione nei confronti di Rufus questa è una cosa molto carina tra l'altro come potete notare c'è un cartonato di Rufus qui praticamente sulla sinistra tutti i manifesti tutte le robe proprio perché ci troviamo a Juno ne stiamo festeggiando Rufus quindi molto molto carina questa roba per quanto riguarda invece le mappe o comunque le zone di esplorazione in realtà non mi ci soffermo più di tanto perché sempre secondo questa intervista sappiamo che il progetto Rebirth arriverà fino alla capitale antica o comunque la capitale dimenticata quindi letteralmente in prossimità della fine del CD1 tutti i personaggi si vedranno quindi su questo che ovviamente non abbiamo visto Seed probabilmente lo vedremo al TGA sicuramente ci sarà un altro trailer poi ai Game Awards dove si vedrà ufficialmente anche Seed però non si potranno usare tutti quindi c'è stato già detto che i personaggi verranno mostrati tutti verranno presentati tutti ma non potranno essere tutti giocabili quindi probabilmente Seed che arriverà diciamo verso la fine probabilmente non sarà utilizzabile subito Vincent in realtà non lo so perché è arrivato fino alla zona della capitale dimenticata in realtà non saprei è una cosa un po' particolare potrebbe anche essere che appunto si rifiuti di venire subito con noi a differenza del capitolo originale dove era possibile reclutarlo subito qui magari non lo so magari si rifiute quindi dovremmo ritornarci dopo come si faceva solitamente nel diciamo nel gioco originale che poi Vincent veniva reclutato successivamente però ripeto sono tutte cose secondo me di poco conto perché l'importante è che si vedano e l'importante è che avranno in un modo o nell'altro un ruolo attivo nella storia poi vabbè ripeto nelle zone di esplorazione non mi ci soffermo più di tanto perché sapendo che arriveremo fino a quel punto non ho più bisogno di speculare quale zona sia o quale zona vedremo o quale zona non vedremo è stato anche detto che l'ordine tra l'altro in cui visiteremo le zone non sarà lo stesso del capitolo originale quindi aspettiamoci magari di raggiungere un luogo prima di un altro e di poterne esplorare uno prima di un altro ok quindi l'esplorazione sarà comunque vasta perché sarà comunque vasta ma non sarà lineare come l'abbiamo vista nel capitolo originale quindi questa è una cosa importante da sottolineare quindi non soffermiamoci molto su questi dettagli qui siamo palesemente a Junon siamo palesemente a Junon bassa tra l'altro infatti se notate abbiamo qui la scalinata che ci permette di scendere sotto dove poi affronteremo il boss del come si chiama del bottom swell con priscilla che per la punta nega aspirazione bocca a bocca eccetera eccetera vi do un altro allegato che è esattamente questo dove abbiamo praticamente la casa frontale che sarebbe la casa che abbiamo davanti la casa dietro poi qui sopra c'è la parte dove si sale dietro abbiamo tutta la struttura in ferro che è per l'appunto il collegamento con Junon alta mentre invece qui scendiamo e raggiungiamo poi la parte la parte bassa dove poi appunto ci sarà il mare tutti i tubi e praticamente poi priscilla con il delfino eccetera eccetera quindi quindi diciamo che fondamentalmente questa a primo impatto così per me è Junon tra l'altro notate anche mannaggia la miseria notate anche che praticamente vedete qui dietro abbiamo praticamente l'acqua e questa è sicuramente l'acqua che per l'appunto poi si vede in Junon bassa poi vabbè l'arrivo in Cosmo Canyon scritto grosso quanto una casa davanti a noi l'osservatorio di Buchenhagen sopra e in cima molto bello effettivamente da vedere visivamente così proprio questo senso di salita no? proprio per ascendere come ci insegnavano appunto all'interno del Cosmo Canyon qui invece abbiamo delle zone con delle navi in realtà diroccate dove io inizialmente pensavo potesse essere la zona di Vutai perché magari questi potevano essere dei relitti o comunque delle navi distrutte per la guerra o non so effettivamente è anche vero che è passato diverso tempo dalla guerra in Vutai però ho detto chissà magari potrebbero essere delle litti poi invece grazie alle indiscrezioni e alle conferme che ci sono state fatte tramite le interviste con i producer è stato ufficialmente detto che Vutai non si vedrà nel capitolo Rebirth quindi Vutai si vedrà a quanto pare nel prossimo titolo quindi nel terzo capitolo della saga però non si vedrà in Rebirth quindi qui potremmo essere praticamente da un'altra parte non ho idea effettivamente di dove potremmo essere anche perché questa zona un po' montana un po' acqua può farmi venire in mente tutto e può farmi venire in mente niente quindi non mi ci soffermo più di tanto ripeto anche perché sapendo ormai fino a dove arriveremo all'interno del gioco non mi interessa sapere cosa andremo a esplorare mi interessa quando andremo ad esplorare determinati luoghi però potrebbe comunque essere una zona vicino ovviamente al mare quindi sono poche le zone vicine al mare per cui prima o poi avremo modo anche di identificarci questa è l'unica zona in realtà che mi sono un pochettino permesso di speculare perché questa mi sembra la zona vicino Gongaga questa mi sembra la zona vicino Gongaga perché se ci fate caso abbiamo comunque una zona foresta quindi una zona un po' più fitta di alberi il mare che si vede sullo sfondo nella zona costiera e poi una zona un po' più pianeggiante un po' più pianeggiante infatti se vi ricordate Gongaga era praticamente così quindi la costa la zona pianeggiante e poi man mano che ci si addentrava c'era la zona un po' più boschiva la zona appunto ricoperta dalla foresta e poi dentro la foresta c'era la città di Gongaga quindi secondo me questa è probabilmente una di quelle poche zone che riesco a mente così a identificare qui vabbè qui secondo me ci troviamo nei pressi del Cosmo Canyon anche perché come potete vedere la zona è tutta paludosa cioè no paludosa scusatemi è tutta rocciosa tutta arida quindi potrebbe comunque essere tutta quella zona di strada del Cosmo Canyon poi qui ovviamente andiamo in una zona importantissima dove Sephiroth si fa le sue prime domande su chi sia veramente e qui ragazzi prima sorpresa Kitesith che viene praticamente incontrato all'interno del Gold Saucer questo è il primo incontro che almeno secondo me questo è il primo incontro che si vede con Kitesith all'interno del Gold Saucer perché questo perché ovviamente non ci sarà più diciamo il metodo con i buchi per entrare e quindi spuntare nelle varie zone ma ci sarà un ascensore che è l'ascensore che vedete alle spalle praticamente da Cloud e Barrett e una volta arrivati poi nella zona dove si incontra Kitesith avremo modo di poter parlare con lui quindi credo che sia effettivamente il primo incontro qui invece ci troviamo nella zona di Nibelheim quelle sono le montagne che circondano tutta la zona di Nibelheim e questo è il fiume che si attraversa per raggiungere Nibelheim infatti se vi ricordate per raggiungere Nibelheim come potete vedere tramite il buggy attraversavamo la secca infatti questa potrebbe essere tranquillamente il fiume questa la secca che poi va verso l'oceano quindi che si apre verso l'oceano e quindi noi magari potremmo in un qualche modo attraversare questa secca e raggiungere poi dietro le montagne di Nibelheim quindi questa è molto probabilmente quella zona e queste montagne secondo me sono molto identificative della zona e sono per l'appunto la zona di Nibelheim però ripeto le zone che vedremo nel combattimento nell'esplorazione ripeto non mi ci soffermo più di tanto perché va bene che all'occhio magari mi danno delle impressioni diverse ma non mi ci voglio soffermare più di tanto perché già sappiamo dove arriveremo quindi sapendo dove arriveremo io già so che tutte quelle zone bene o male le tocco e quindi avrò un modo di esplorarle in un modo o nell'altro qui abbiamo il buggy nella zona desertica probabilmente nella prigione nella prigione di sabbia diciamo nella parte vicino Corel perché appunto abbiamo il buggy che vinciamo tramite la corsa di Chocobo e poi qui tutta la zona diciamo desertica che possiamo esplorare qui invece abbiamo un'altra roba interessante a parte Hojo che sta parlando quindi questa è ovviamente palesemente il dialogo di Hojo a costa del sol che se vi ricordate appunto abbiamo Hojo che incontreremo a costa del sol e che probabilmente ci dirà esattamente queste stesse cose di Sephiroth dei vari cloni eccetera eccetera quindi su questo sono abbastanza sicuro quindi ci sarà la scena meme probabilmente di Hojo col camice che si prende il sole a costa del sol e poi qui un'altra cosa che invece stiamo vedendo è il ciocobo nero hanno cambiato il colore dei ciocobo comunque perché va bene che il ciocobo nero si arrampica fa eccetera eccetera quindi può praticamente scalare le montagne ma la cosa interessante è che là si vedevano dei relitti e poi il ciocobo volante non è dorato ma è azzurro o ciano in questo caso mi sembra molto più ciano che azzurro e questa secondo me potrebbe essere una correzione del fatto che in Final Fantasy 7 il ciocobo dorato praticamente aveva lo stesso colore del ciocobo normale e quindi non si capiva mai quando il ciocobo raggiungeva il suo grado massimo perché solo il ciocobo dorato poteva volare e quindi secondo me è stato fatto apposta per identificare magari un ciocobo di tier superiore ed evitare appunto che si venisse in un qualche modo camuffato con il colore originale e quindi gli hanno dato uno spessore diverso anche se effettivamente il colore azzurro potrebbe essere anche quello che camminava nell'acqua in Final Fantasy 9 addirittura c'era quello che camminava nelle secche addirittura e poi quello blu scuro che poteva solcare i mari quindi potrebbero aver cambiato i colori dei ciocobo anche per una questione di convenzione e permettere comunque di identificare meglio i vari ciocobo che secondo me ci sta è una cosa abbastanza intelligente qui ci troviamo palesemente a Costa del Sol infatti ci sono persone comunque con il costume tavole da surf questo è il mare aperto questa è la zona del traghetto questa in teoria dovrebbe essere il traghetto che ci ha portati a Costa del Sol Cloud che fa il Maranza con un overboard ma questo diciamo è un piccolo tocco secondo me stilistico ma questa sì effettivamente è Costa del Sol almeno per me rimane Costa del Sol qui abbiamo la famosa Reunion e poi qui abbiamo il dottore sto dottore Sheeran che io personalmente ovviamente non ricordo perché credo che sia comunque un'aggiunta di Final Fantasy VII Remake perché ci sta io l'unico dottore in questo caso di dottoressa è la dottoressa Shera ma era una donna in teoria ed era anche la collaboratrice di Seed non credo che abbiano modificato questa cosa nel senso di rendere Sheeran Shera e modificare questa cioè non credo non credo che ci sia questa cosa perché mi sembra abbastanza non lo so mi sembra abbastanza inutile tra virgolette nel senso non c'è motivo di modificare questa cosa anche perché i vestiti sono diversi giustamente il camice uguale gli occhiali ok però lui è vecchio Shera era comunque giovane poi era una donna quindi non credo che effettivamente ci sia una sostituzione di persona ma credo che ci sia per l'appunto un'introduzione di un nuovo doc di un nuovo dottore che ci dice per l'appunto che questi sono soldi era affetti da degradazione cellulare cosa che noi abbiamo sempre sospettato ma che non sapevamo noi anzi abbiamo sempre sospettato del fatto che i tizi incappucciati o per meglio dire noi sapevamo che i tizi incappucciati erano gli esperimenti falliti di Ojo quindi tutti quelli che avevano provato ad essere infusi con le cellule di Genova e la Mako e che non avevano risposto al trattamento quindi erano i test falliti in questo caso mentre invece il dottore ci dice che questi in realtà sono dei soldier che hanno subito il degradamento cellulare che era praticamente la stessa condizione che hanno sofferto Angil che ha sofferto Genesis che ha sofferto Angil quindi è una cosa che effettivamente è reale cioè noi già conosciamo vabbè Sefirot che fa il manipolatore best della vita che cerca in un modo o nell'altro di diciamo di di prendere Cloud al suo fianco questo è palesemente il Midasorn cioè io non riesco a trovare un'altra giustificazione perché come potete notare la fisionomia è quella e dato che nel gioco originale era un incontro opzionale che si affrontava all'interno della palude come potete notare tutta la zona praticamente qui del gioco sono tutti alberi secchi e palesemente una zona paludosa e poi come potete notare il Midasorn ha la lingua lunga biforcuta quindi mi sembra palese che il Midasorn non sia più un incontro opzionale ma possa essere addirittura un boss uno dei primi boss magari che affronteremo all'interno del gioco quindi anche questa rivoluzione qui ovviamente ci troviamo di fronte al Bottomswell quindi siamo a Junon bassa anche lui il boss che comunque si affrontava nella versione originale e probabilmente si affronterà anche nella versione remake quindi questo mi sembra tutto abbastanza identico tutto abbastanza uguale non c'è nulla di diverso altre zone costiere queste potrebbero essere quelle fuori costo del sol perché c'è la spiaggia c'è tutto qui attacchi combinati che sono fighissimi da vedere e qui ragazzi qui arriviamo una bomba qui viene vista a parte che già sto frame secondo me vale l'acquisto del gioco cioè già vedere solo sto frame vale l'acquisto del gioco ma qui in teoria dovremmo trovarci all'interno del ricordo di Cloud della cittadina di Calm quando ricorda praticamente ciò che era successo a Nibel e a parte il fatto che Seyfirot sarà utilizzabile quindi questo già mi permette di bloccarmi praticamente qui per tutto il tempo c'è una cosa che però ovviamente un pochettino mi ha fatto storcere il naso perché come notate Cloud e Seyfirot hanno un ammontare di HP bene o male simile e tra l'altro se notate stanno combattendo praticamente un Materia Keeper stanno combattendo un Materia Keeper palesemente questo è un Materia Keeper il Materia Keeper noi lo affrontiamo la seconda volta che andiamo a Nibel ovvero con il gruppo part diciamo di personaggi già ben rodati all'interno del team mentre invece Cloud e Seyfirot quando diciamo ci facevamo al flashback di Calm affrontavano un Green Dragon semplicemente un Green Dragon e notate anche come Cloud a differenza di Seyfirot sia molto più scarso infatti qui Cloud veniva letteralmente one shottato Seyfirot veniva utilizzato dall'intelligenza artificiale e praticamente shottava tutto con un colpo solo mentre invece qui abbiamo la possibilità comunque di combattere fare gli fare diciamo gli attacchi combinati e tutto con Seyfirot come se il ricordo in questo caso di Calm fosse addirittura diverso cioè notate qui fanno l'attacco combinato combattono tutto eccetera eccetera poi vabbè showcase ovviamente per un po' di fanservice con Alexander una materia che probabilmente io per primo mi ero letteralmente dimenticato ovvero Cuxata perché questo è palesemente Cuxata io paradossalmente l'avevo quasi identificato con Ifrit inizialmente perché ho visto soltanto le fiamme mi ero distratto guardando il trailer leggendo la chat in live poi invece adesso guardando appunto tuono ghiaccio e poi successivamente fuoco questo era praticamente il tetra attack del nostro Cuxata ed eccolo qui nella sua versione Final Fantasy 7 summon che comunque si ottiene nella foresta dei miti dopo gli scavi praticamente al bone village quindi questo è un altro indizio che ci permette di capire che arriveremo fino per l'appunto alla forgotten capital quindi alla capitale dimenticata questo è un grandissimo indizio sul dove riusciremo ad arrivare poi vabbè Odino splendido come sempre incredibile bellissimo scena iconica dell'arrivo al gold saucer con il battle square chocobo square poi sotto c'è lo speed square che sarebbe appunto il minigioco quello del roller coaster quindi delle montagne russe che spero non dover fare anche qui con i punteggi incredibili per ottenere le armi di eris perché potrebbe essere un bel dito nel lì dove non batte il sole però questa scena iconica da corel prendiamo la funivia e arriviamo al gold saucer scena cringe dove si ballerà ancora una volta queste vabbè ormai sono marchio la corsa dei chocobo che collegato al discorso di prima del colore dei chocobo potrebbe farci ibridare i chocobo quindi potrebbe farceli crescere incredibile questa cosa sarebbe fighissimo poter allevare i chocobo anche nella versione di gioco del remake quindi comprare le noci accoppiare fare le gare per aumentare la classe e tutto il resto potrebbe essere una bella porzione di gioco offline per me perché ovviamente in live io porterò sicuramente il progetto rebirth in live ma queste sono tutte cose che farò sicuramente offline poi vabbè qui abbiamo il battle square che invece è stato modificato non sarà più come prima ovvero combattimenti contro i nemici a quanto pare almeno credo ma ci saranno praticamente cloud in versione pixelosa che deve menare praticamente dei nemici random che verranno presentati anche perché se vi ricordate nella battle square cloud era da solo quindi praticamente avremo cloud che combatterà in questo caso contro diversi nemici e qui secondo me è la stessa cosa cloud che combatterà contro nemici però non combatterà contro dei mostri che ovviamente era una roba un po' esagerata perché all'interno del gold saucer mettere quei mostri poteva essere un po' pericoloso anche effettivamente però a quanto pare avremo un minigioco completamente diverso altro minigioco con la corsa delle moto bellissimo e qui invece abbiamo una scena particolare zack con cloud che raggiungono kirie quindi qui siamo praticamente nel settore 5 nei bassi fondi del settore 5 e se notate tutta la gente sta guardando una direzione sono convinto che questa sia la parte dove scarlet fa l'annuncio se vi ricordate bene nel remake scarlet fa l'annuncio per l'appunto dell'avalanche della distruzione eccetera eccetera almeno potrebbe essere quella il periodo anche perché appunto kirie si trovava lì in quell'esatto momento e potrebbe coincidere anche perché zack in quello stesso momento sta andando via da casa di eris quindi all'inizio del trailer l'abbiamo visto a casa di eris non l'ha trovata perché per l'appunto è stata presa dalla scena priva di sensi insieme ai membri dell'avalanche e quindi se n'è andato perché non ha trovato eris sta andando a cercarla lascia cloud nelle mani di kirie così come se fosse un sacco di patate e dice puoi tenere d'occhio il mio amico giusto per un attimo perché zack secondo me qui sta cercando il modo o comunque sta cercando un attimo di capire dove poter trovare dove poter trovare eris poi prenderti cura del mio amico solo per un po' quindi e notate che tutti sono girati verso la zona dove appunto scarlet tramite tramite la tv tramite lo schermo aveva annunciato la distruzione del reattore ora non mi ricordo qual era l'evento ma credo che fosse appunto la distruzione del reattore poi qui vabbè siamo proclamazione di rufus e qui c'è un'altra bella bombetta altra bella bombetta di teorie che ho visto in giro molto interessanti da un lato ma che per me avranno un unico riscontro io rimango convinto per il momento che il tipo incappucciato sia Glenn rimango del fatto che il tipo incappucciato sia Glenn perché ci sono ovviamente tanti fattori che me lo fanno pensare uno il fattore evercrisis quindi il fattore che comunque tramite il progetto di evercrisis si avrà modo di conoscere meglio il personaggio di Glenn e Glenn secondo me è quello più probabile perché sarà colui che avrà un vero motivo per avercela con la scirra dato che lui faceva parte dei soldi erpi e conoscendo la scirra sappiamo come in sabbia le cose e come fa piazza pulita quando una cosa non gli serve più secondo me una volta che sono nati i soldi erra infusi con le cellule di genova e la maco hanno letteralmente eliminato tutti i vecchi soldi er infatti lucia e matt qui non si vedono perché probabilmente sono già stati uccisi Glenn è l'unico che sopravvive grazie alla sua capabilità alla sua forza fisica e anche alla sua ottima strategia di guerra perché sembra molto stupido Glenn ma in realtà non lo è è stupido diciamo nelle cose è molto infantile ma non è stupido dal punto di vista combattivo dal punto di vista strategico e guerrigiero Glenn è fortissimo abbiamo visto tramite la storia di Evercrisis come Glenn sia veramente capace di essere un soldier e come ha detto a Sephiroth stesso lui ha fatto un durissimo allenamento ha fatto tante cose che Sephiroth non ha fatto perché Sephiroth è nato praticamente tramite appunto l'unione delle cellule di Genova l'infusione mago è un cyborg come l'ha definito su Evercrisis e lui secondo me è Glenn perché ripeto è il più papabile è quello che ci stanno facendo conoscere è quello che abbiamo visto addirittura nel trailer di Evercrisis incappucciato è vero che qui è un po' diverso ma credo che l'età ovviamente si faccia sentire Glenn non è non è forever young perché lui comunque è un soldier vecchia classe non è stato pompato non è stato migliorato con le cellule di Genova che gli consentono comunque di rimanere giovane e l'amaco che gli consente di essere più forte lui ovviamente è un essere umano cioè è comunque una persona normale quindi vecchia e la barba secondo me può essere appunto un'estensione del vecchio pizzetto che noi gli vediamo nel trailer di Evercrisis anche il colore della pelle è molto simile sono tutti e due molto chiari di carnagione e se notate la barbetta Glenn è comunque biondastro è comunque con i capelli chiari molto biondo e qui la barba sembra essere un po' più chiara si vedono anche dei riflessi rossicci in realtà almeno sembrano vedersi anche dei riflessi rossicci un pochettino sulla barba ma secondo me sono semplicemente i riflessi del sole anche io ho la barba scura però quando si vedono i colpi di sole comunque sia si vedono dei riflessi rossicci ma questo ovviamente non cambia nulla non cambia il fatto che la mia barba sia scura quindi secondo me questo è Glenn proprio per una motivazione quasi di marketing vorrei dire cioè con Evercrisis avremo modo di capire meglio il personaggio di Glenn di studiare meglio il personaggio di Glenn e permetterci di conoscerlo meglio ma soprattutto anche magari di apprezzarlo un po' di più apprezzare sicuramente il personaggio di Glenn e poi qui mentre se ne va ovviamente lo vediamo con la tonaca poi lo vediamo un personaggio comunque sembra abbastanza alto anche forse non troppo fisicato e ripeto potrebbe anche essere a causa dell'età perché comunque Glenn da ragazzo l'abbiamo visto è molto fisicato è molto grosso fisicamente però ovviamente crescendo diventando più grande la sua massa muscolare si perde è normale come tutti come tutti quanti perde comunque un po' della sua massa muscolare ma secondo me non ha mai smesso di odiare la scira per quello che hanno fatto probabilmente i suoi amici perché io sono convinto che la scira una volta studiati i nuovi soldier ha completamente eliminato tutti i soldier classe anzi sì classe P quindi passivi e abbiano mantenuto soltanto i soldier classe attivi quindi quelli che effettivamente sono stati potenziati con le cellule di Genova e l'infusione di Mako e lui sicuramente sta cercando vendetta per gli Sherlock Holmes di turno che mi possano dire eh ma Glenn nel trailer di Evercrisis aveva i bottoni nella giacca era tutto strano tutto il mantello gne 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 e ragazzi se non vi cambiate i vestiti nel giro di anni avete dei problemi perché cioè posso capire tutto posso capire che siamo in un gioco posso capire che comunque i personaggi hanno sempre gli stessi vestiti perché appunto sono identificati da quegli stessi vestiti ma sinceramente parlando se tenete sempre le stesse robe addosso avete un problema sia voi che anche gli sviluppatori quindi su questo sinceramente non ci metto troppo la mano sul fuoco non ci metto troppa roba secondo me ripeto rimane Glenn per una questione di riconoscibilità del personaggio per una questione di marketing anche con il progetto di Evercrisis è tutto quello che può intrecciarsi tramite la storia di First Soldier quindi secondo me tutti gli indizi portano a Glenn così come tutte le strade portano a Roma o a Nibelheim in questo caso qui portano praticamente a Glenn almeno per quello che penso io ho sentito comunque altre teorie folli su personaggi che praticamente non si cagherebbe nessuno che non conosce nessuno se così fosse bah non la giustificherei molto come idea potrebbe essere bello per un colpo di scena ma detto sinceramente almeno per quello che penso io non ha molto senso logico e poi qui abbiamo un'altra roba che io erroneamente non ho guardato bene effettivamente quando si parla di weapon giustamente io qui vedendola sott'acqua il primo pensiero che mi è venuto in mente sono stati Diamond ed Emerald perché appunto Emerald la incontriamo sott'acqua Diamond emerge dall'acqua ma se andiamo avanti e guardiamo invece come si vede questa weapon ci sono dei tratti molto identificativi che ci faranno capire che non si tratta né dell'una né dell'altra e nel caso specifico come potete notare abbiamo praticamente una sorta di coda vedete abbiamo una coda abbiamo delle pinne abbiamo una coda e abbiamo delle pinne quindi giustamente stiamo parlando della Sapphire Weapon stiamo parlando della Sapphire Weapon effettivamente le weapon si risvegliano quando Meteor viene castata quindi qui dovremmo trovarci probabilmente nella dovremmo trovarci praticamente quasi nella parte finale del gioco ovvero vicino alla capitale alla capitale dimenticata proprio perché Meteor comunque viene invocata in quel momento e le weapon si risvegliano nel momento del bisogno infatti si dice che appaiono solo quando il pianeta è in grave pericolo quindi il pianeta quando è che entra in grave pericolo quando viene invocata Meteor quindi l'idea è che Meteor sia stata invocata e Eris sia stata uccisa però questo va a collidere un pochettino con la mia con la mia teoria che adesso vi andrò ad esporre quindi questa è sicuramente Sapphire Weapon poi abbiamo ovviamente il risveglio di Vincent abbiamo la parte finale ecco la parte finale che è un completo casino la parte finale che è un completo casino perché Sephiroth appunto fa il suo dialogo la riunione quando i mondi si fondono quando i mondi si fondono quindi qui non lo so qui ovviamente è tutta libera interpretazione la mia è speculazione però vi posso dire che la mia teoria adesso ha preso una forma la mia teoria ha preso una forma e vi dico per l'appunto qual è la trilogia del remake come c'era stato preannunciato appunto doveva essere una trilogia solo che però cosa è successo nel primo remake siamo usciti appena da Midgar in Rebirth arriveremo alla capitale dimenticata il vero remake sarà il terzo capitolo sarà il terzo atto di questo progetto perché secondo me stanno facendo di tutto per far concludere la storia di Final Fantasy 7 al CD1 e che cosa intendo come vi ho sempre detto Eris è praticamente la chiave di volta di tutto il gioco perché grazie al Sancta avremmo avuto la possibilità di bloccare Meteor quindi che cosa è successo Sephiroth uccide Eris e noi praticamente facciamo tutti gli eventi di Final Fantasy 7 ma se Eris rimanesse in vita il tutto si risolverebbe con Tarallucci e Vino quindi il progetto remake sta semplicemente preparando le carte per far sì che Eris possa sopravvivere alla fine e non solo lei anche Zack infatti il messaggio iniziale dice il mondo quando il mondo dice il mondo verrà salvato dice ma tu dice tu verrai salvato insieme al mondo si riferisce al fatto che Zack potrebbe o sacrificarsi per salvare Eris in questo caso e quindi permettere poi successivamente ad Eris di castare Sancta e permettere al Cloud di coesistere nella realtà perché appunto Cloud senza Zack in teoria dovrebbe crepare cioè Cloud con Zack dovrebbe crepare mentre invece Cloud senza Zack si risveglia e diventa il Cloud che conosciamo e quindi ci sarebbero queste due realtà in una dove Cloud rimane praticamente uno zombie dove appunto Zack è ancora vivo ma nel momento in cui Zack muore in questa in questo conflitto finale quel Cloud si risveglia e potrebbe essere una nuova storia di Cloud e non quella che conosciamo ma questo potrebbe essere sicuramente un altro episodio potrebbe essere sicuramente un'altra roba un DLC o quello che è però io sono molto convinto adesso che con il fatto che il primo remake ci fu uscire da Midgar il secondo ci porta alla Forgotten Capitol praticamente il terzo il terzo capitolo del progetto remake ci permetterà di far vedere di vedere Eris morire e riscrivere la storia per riportare Eris in vita e bloccare quindi Meteor e riuscire praticamente a sventare nuovamente il piano di Sephiroth a questo punto sono convinto di questo perché non possono mettere nient'altro cioè ragazzi fare un terzo CD dove si ripercorrono tutti gli eventi di Final Fantasy 7 sarebbe un rush incredibile quindi loro si stanno focalizzando su tutta la prima parte del gioco su tutto il primo CD praticamente diviso però in più sezioni perché se Eris sopravvive tutto finisce tutto si risolve quindi quello sarà il nostro compito nell'ultima parte ovvero permettere al mondo di salvarsi grazie a Sancta di Eris semplicemente non è inutile girarci attorno hanno praticamente cioè stanno costruendo stanno mettendo praticamente le basi per far sì che Eris sopravviva né più né meno tutto qua comunque questo era il nuovo trailer di Final Fantasy 7 Rebirth questa è anche la mia teoria finale almeno per ora su quello che si vedrà all'interno della compilation di Final Fantasy 7 Remake e ovviamente per chi non l'avesse visto la data di uscita sarà il 29 febbraio del 2024 una data incredibile perché solitamente febbraio sapete che è di 28 giorni mentre invece l'anno prossimo essendo bisestile sarà 29 quindi tanta bella roba ragazzi so che il video è lungo spero che comunque possa esservi interessato possa esservi piaciuto fatemi sapere ovviamente le vostre idee le vostre teorie e noi come sempre ci becchiamo alla prossima bye bye